La terra ti parla, parla tantissimo, ti dice un sacco di cose. Abbiamo smesso di ascoltarla perché andando nel campo con le macchine, le macchine fanno rumori e noi non la sentiamo più. Questa è un ravizzone che era parte del sovescio dell'anno scorso, ma se stiamo zitti sentiamo cos'è che ci dice. Vedi? Allora ci sono due radici, una soprattutto molto grossa, vuol dire che questa sarà andata in profondità, una radice così sarà arrivata intorno agli 80 centimetri. Questa ti lavora la terra lui, viene piantato apposta perché va in profondità. Le radici adesso erano riccamente vascolarizzate, infatti sono rimaste aggrappate alla terra tutti i filamenti. Questo lo vediamo invece che è rimasto un po' più unito. Questo era più alto, vedi? Per cui ha fatto meno pressione a cavarsi, nel togliersi. E vediamo proprio glomeruli attaccati alle radici. Questo è quando si sono instaurate questi gruppi di batteri, di microorganismi che stanno lavorando per la pianta. Vuol dire che il terreno risponde molto bene. Il rumore che ha fatto, più la pianta fa rumore, più vuol dire che ha emesso un apparato radicale importante. Più ha emesso un apparato radicale importante, più vuol dire che la terra era buona per lei e lei sta facendo un buon lavoro per la terra.